il giorno 17 febbraio 2024 i bimbi raggiunsero finalmente le isole Lofoten che desideravano visitare fin dall'anno precedente purtroppo non era destino che fossero accolti da panorami mozzafiato bellissime le Lofoten non ho mai visto niente è così spettacolare grazie a tutti alla rotonda prendi la terza uscita e prendi sul barbella e 10 siamo andati a fare la spesa si 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 perché eravamo secco a Svolvaer che penso la città principale delle Lofoten mi sa che ci sono le piste adesso andiamo a cercare la partenza della gita di domani ed ecco che abbiamo raggiunto il nostro parcheggio domani la gita pensiamo che dovrebbe essere in quel vallone c'è un parcheggio un bellissimo parcheggio davanti al cimitero che quello lì è un cimitero non si capisce non si capisce ma è un cimitero ci sono le lapidine sommersi dalla neve un bel parcheggio ampio panoramico ciao ciao buongiorno bimbi oggi questa notte ha nevicato un po' adesso ci sono meno tre oggi andiamo a fare la nostra gita qua dentro buongiorno bimbi che giornatina oggi qui alle Lofoten bella speriamo che si mantenga così perché qui sapete che dopo mezz'ora cambia dopo mezz'ora ricambia dopo mezz'ora ricambia e vabbè niente oggi siamo solo noi ancora non c'è qui nessuno ho passato stamattina lo Spazzanelli a fare manovra qui a girare poi se ne andate basta bene bene la nostra meta è là dentro poi gira dentro così sono giù 5-10 cm di neve fresca che ha nevicato un po' ieri e un po' stanotte bene 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 Grazie a tutti. 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 Siamo arrivati in questo ampio pianoro e adesso dobbiamo risalire. Pianoro c'è un lago qua sotto i nostri piedi. Vabbè perché non si può chiamare pianoro. C'è un bel laghetto del coca. Ecco altro paragone aerobico. La vera vetta sarebbe questo roccione qua. Non c'è anche sulla cartina va via con la lago. Vediamo. Arriviamo al collettino e dopo decidiamo se andare a destra o a sinistra. Lo sappiamo facciamo quale la vetta. Non abbiamo ancora capito se siamo arrivati nel posto giusto. Non c'è un posto giusto. Non c'è un perro. Grazie a tutti. 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 Ancora queste ore che ci hanno bella perché dopo già da questa sera, stasera o domani mattina, dovrebbe arrivare l'acqua e le temperature vanno sopra lo zero perciò rovina tutto quello che c'è. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il panorama di là, niente di che non si vede il fiordo e ci sono i tralici. E c'è un muretto e c'è un muretto ovviamente adibito a riparo. Grazie a tutti. Vabbè, anche se la sciata non è un muretto, anche se la sciata non è stata eccezionale, noi pranziamo lo stesso. Fate creare. Fate creare. Un merluzzo alle cipolle e riso. Lavori in corso. Capire. 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 Dovevo capire. Capire. la testa di questo. Perché ricordiamo che abbiamo l'Eberspacker, quel riscaldatore del motore, che non si accende più. Non dà segni di vita proprio il display, quindi dobbiamo capire perché non gli arriva corrente. 1,4,4. Il corrente ce l'entra. E passa. A quali conclusioni sei giunto? Che si è spento? Si è spento perché l'ho abbastanza io. No, perché prima l'ho fatto saltare io. Cioè l'ho spento che ho trovato un fusibile da quale è bevasto. Che perlomeno ho capito. Sono giunto che qua niente, abbiamo questo fusibile che è sulla linea che ha fatto il micro, che non c'entra niente, perciò il fusibile che io sto cercando. Qua non c'è. Devo partire dalla batteria, andare verso il Vespa che è verso l'interruttore. Perciò devo aprire di là. Qua è tutto a posto perché l'unico fusibile è questo qua. e la corrente testata passa. Perciò non c'entra niente. Altri non ce ne sono. Quello che c'era di là, che ho fatto prima, era bevasto. Perciò devo tornare di là, andare verso zona batteria, aprire il coperchio e capire e capire che cacchio dove è il cavo. Perciò qua niente, qua chiudiamo. Adesso lasciamo il nostro posticino al cimitero, se ancora vivi. Non siamo stati contagiati dalla presenza dei defunti e senza aver risolto il problema. No, perché ho trovato il filo subito dietro l'interruttore del Vespa che ho fatto anche la foto. È una guaina nera con dentro tanti filini fini. Però poi sparisce nel cruscotto e non vedo l'uscita che dovrebbe andare verso le batterie. Cioè non lo trovo, è sparito. Sapò, 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 sapò dove l'ha fatto passare. Secondo me è attaccato alla batteria. Però lì per me è sulla linea che probabilmente è interrotto con un fusibile. Ma tutti i fusibili che ho trovato non erano il suo. Cioè è un mistero. Mi fa una radio a me quando non posso vedere i lavori perché dopo loro ti fanno i lavori. Ma poi sono cavoli tuoi quando sei in Norvegia a meno 20, tutte quelle minate qua. Quando le cose non funzionano. Perché poi un conto è se fanno i lavori fatti bene che poi funzionano. Ma quando fanno i lavori con i piedi. Perché tu non sei più niente, non sei niente. Poi non ti lasci nemmeno guardare in ufficio. Che no, no, non puoi, non puoi, non puoi stare dentro. Ho capito però. Spiegami. È l'unica cosa che ti dice. Ho collegato, che non mi ricordo neanche più se mi ha detto la batteria servista, la batteria motore. Doveva essere servista perché la batteria motore significerebbe che te la scarica. Ogni volta che lo accende ti tira giù la batteria. Perché lo accende un'ora per scaldare il motore. Perciò è la batteria servista. Però il cavo è sparito. Non sai che tratta fa. Devo smonto verso la cabina. Io in un ambiente così. È assurdo. Tra l'altro questo qua era lo stesso che... Si che l'amenava su. No, quello che ha fatto il giunto con il cavo del veloce. Il tubo dell'alimentazione del gasolio del bevasto. E quello delle breast pack era fatto un giunto. Un T con un tubo più grande. Che filtrava dentro l'aria. Per cui alla fine non funzionava più. L'anno scorso siamo andati in crisi. Il bevasto non funzionava più. Perché c'era la bolla d'aria e lui andava in blocco. E adesso abbiamo trovato questo bel campeggio. Abbastanza caro. Ma... La vista merita. E ora sappiamo. Dai che quelle le foto hanno in caro. Il giorno successivo li attendeva un drastico cambiamento meteorologico. Questa è un'ottima di più. Questa è un'ottima di più. Questa è un'ottima di più. Questa è un Buongiorno, bimbi. Buongiorno! Con una bellissima giornata. Oggi questo è il tempo all'elofonte, quindi c'è costretto a vedere. Piove, piove, piove! Ci siamo risolti a cambiare programma. Dovevamo dedicare qualche giorno a fare un po' i turisti e vedreste benedette l'ofoten perché fino ad adesso siamo stati sulla prima isola che è praticamente quella dove c'è meno da vedere di niente. Ma ci ritorneremo! Così, a parte il fatto che non vedi niente e prendi solo delle lavate clamorose. Vediamo un po' di andare verso nord e verso l'interno dove perlomeno invece che piovere nevita. Vediamo cosa riusciamo a fare. Grazie per la visione! È ora di pranzo! Oggi mangiamo hummus di ceci e barbabietola. Comunque, per vostra informazione il programma è cambiato di nuovo. E vai! Perché... Cambiato in vita! No, allora... Allora, a Leofoten il tempo era infame ma alle Westerolen un po' meno. Allora abbiamo deciso di andare lì. Adesso come prima tappa andiamo a Nyxund e di cui poi illustreremo alcuni dettagli. che è stata un pittura nel nero di trattorio. Io avevo awards per retro. Avevomême consigliato di colu, di dueبة. Qui è successo di un maestro. In questo modo fu a produzione di un pittorio. Come tornare la tua vita, è un pittorio. L'inverno è un pittorio. ricoperta da uno spesso strato di neve parzialmente fusa che faceva temere ai bimbi di rimanere impantanati eccoci arrivati dietro quella curva c'è Nick Sung parla parla tu se mi ricordo se mi ricordo male è un paese che con gli anni è andato via via in abbandono come tanti paesi nell'Europa è l'ultimo a andar via qui è stato il Fabbro poi però pian piano era un gruppo di artisti un gruppo di artisti hanno deciso di recuperare questo villaggio abbandonato ormai anche perché è stato anche vandalizzato ovviamente casi abbandonate e pian piano hanno ricominciato a ricostruire gli edifici che erano frollati utilizzando lo stesso materiale che c'era già sul posto e dovete ben sapere che ci sono solo 5 abitanti che ci abitano d'inverno poi l'estate invece si popola a 35 migliaia 35 migliaia 35 persone dicono un Grazie a tutti. E quella è una guest house gestita da un tedesco che l'ha tipo trasformata in una specie di bar, di caffè museo. Grazie a tutti. Ci sono anche le ossa di balena. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.